a tu per tu questa settimana ospita il consigliere provinciale del gruppo misto massimo fasanelli che salutiamo grazie di essere con noi allora entriamo subito nel vivo con il sommario di questi 6-7 minuti dedicati al suo impegno al suo lavoro da consigliere provinciale legge urbanistica una legge urbanistica che andrà in aula a breve una legge urbanistica che è improntata alla coesione territoriale alla semplificazione a far sì che a Trattino si senta un'unica macchina con tanti ingranaggi sì ma un'unica macchina con un unico movimento ci crede? Ma sì bisogna crederci il lavoro che è stato fatto che sta facendo l'assessore Daldos devo dire che mira proprio questi temi e anche un altro tema importante è quello della salvaguardia del territorio stiamo facendo le audizioni adesso in terza commissione e mi pare di capire che tendenzialmente c'è apprezzamento rispetto a questo obiettivo la semplificazione è uno degli obiettivi forse a mio modo di vedere si poteva osare di più è vero si sono in qualche modo messi assieme semplificati determinati temi determinati argomenti magari ricondotti su solo certi articoli però alla fine diciamo il malloppone della legge è rimasto più o meno lo stesso forse da questo punto di vista qualcosa in più si poteva semplificare però devo dire che gli obiettivi soprattutto la salvaguardia del territorio che si sono posti sono a mio modo di vedere potrebbero essere raggiunti ecco veniamo sempre rimanendo in tema di territorio l'assessore Daldos che è un tecnico perciò si è confrontato anche con gli sportelli della pubblica amministrazione sa quali sono i gangli diciamo così da depurare per certi versi parla di demolizioni di recupero dell'esistente potrebbe essere questo o meglio per l'assessore è questo il motivo che dovrebbe dare respiro per i prossimi 50 anni esageriamo un po all'edilizia un edilizia che soffre come abbiamo visto dalla manifestazione degli artigiani insomma è vero che la provincia di trento per l'89 per cento destina imprese locali gli appalti però case nuove difficile costruirne perché se ne vendono pochissimo ormai mercato immobiliare è stantio e cosa ne pensa beh diciamo che la ricostruzione la demolizione con ricostruzione non è il solo tema che può prevedere uno sviluppo dei prossimi 50 anni di 50 anni dell'edilizia magari fosse così così semplice questo è un tema però assolutamente importante il recupero del dell'esistente in qualche modo potendo demolire per ricostruire credo sia uno stimolo in più rispetto all'occupazione piuttosto di un territorio ex novo così ad esempio altrettanto la possibilità di alzare i sottotetti nei centri storici ci saranno delle norme civilistiche da verificare rispetto alle distanze eccetera però credo che per la salvaguardia del territorio questa è sicuramente una scelta giusta poi c'è anche il tema collegato ad esempio alla riqualificazione a mio modo di vedere vista solo dal punto di vista del risparmio energetico altri in particolare l'osservazione dell'ordine degli ingegneri suggeriva che e lo condivido che forse sarebbe opportuno la riqualificazione considerare anche dal punto di vista strutturale perché non vorrei che ci trovassimo ad avere case belle dal punto di vista estetico però poi magari sono poco sicure quindi come riqualificazione qualcosa a mio modo di vedere c'è da aggiustare ma mi pare di capire che l'assessore abbia preso gli appunti e probabilmente insomma da tecnico oltre che da politico credo che queste cose le potrà le potrà poi anche mettere in pratica per quel che riguarda gli appalti non è solo collegato all'edilizia evidentemente gli appalti in generale a mio modo di vedere dovrebbero essere in qualche modo rivisti dal punto di vista dell'operatività la legge c'è qualcosa magari anche lì potrebbe essere modificato il le critiche che in qualche modo di recente abbiamo visto nell'incontro con l'associazione artigiani le critiche che in qualche modo vengono fatte al pubblico fra virgolette sono quelle che dovrebbero essere considerati di più i territori dal punto di vista dell'assegnazione degli appalti è vero come diceva lei l'86 per cento vengono dati però bisogna vedere che importi se l'86 per cento riguardano 1.000 euro l'uno e poi quello da 50 milioni viene dato fuori voglio dire le briciole con le briciole non si vive facciamo allora lancia un appello facciamo le percentuali quando le diamo sugli importi ecco quello potrebbe essere più interessante allora è chiaro che c'è una legge europea che è difficile da svincolare però altrettanto vero che ci sono in applicazione di determinate procedure di gare ed è lì la critica che anche a mio modo di vedere corretta da parte degli imprenditori è quella di cercare di applicare la norma per quanto possibile il famoso spezzatino non si può fare però è chiaro che si possono indirizzare determinate tematiche in modo tale che non si possa superare la soglia e quindi poter dare le gare d'appalto alle nostre ditte credo sia uno dei punti importanti l'altro è quello del subappalto è prevista la possibilità di pagare direttamente i subappaltatori questo per evitare il concordato ad esempio però non viene applicato ecco un'ulteriore critica che anche lì mi sento di sostenere nei confronti degli enti pubblici in generale è proprio quella di essere più rigidi da questo punto di vista e applicare la normativa seppur magari con qualche difficoltà di più dal punto di vista amministrativo per così la verifica e l'attuazione degli appalti però poi alla fine alla lunga credo che potremo averne beneficio perché come sappiamo poi i soldi che pagano le tasse le ditte che pagano in Trentino poi ritornano e quindi avremo un beneficio sicuramente migliore. Ecco sentiamo cosa chiedono gli ascoltatori alla politica a Trentino. Cosa chiederebbe se avesse di fronte un esponente della maggioranza o dell'opposizione? Che cosa ha intenzione di fare la provincia per quanto riguarda il progetto Life Ursus? Ecco tema attualissimo questo. Qual è la vostra posizione? La mia posizione più che la nostra. Allora Life Ursus è nato come sappiamo ormai 30 anni fa mi sembra era l'83 il primo e aveva l'intento di in qualche modo far tornare l'orso sulle nostre montagne perché da sempre c'è stato. Io credo che però abbiamo superato il limite. Il territorio trentino è piccolo e c'è posto per tutti ma non c'è posto per l'impossibile. Gli eventi di questi ultimi giorni lasciano evidentemente spazio a tutta una serie di criticità magari anche di critiche anche dal punto di vista populistiche, chiamiamole così. Però non possiamo nasconderci dietro al fatto che c'è un pericolo. Io ho parlato proprio in questi giorni con tante persone però hanno tutti paura. Gente che non vuole più andare in montagna. Credo che l'ordinanza che ha emesso il presidente Rossi con anche l'eventuale abbattimento degli orsi pericolosi come si fa per un cane che magari attacca e azzanna un bambino così senza senso io credo che anche per l'orso non debba essere considerato in modo diverso. Va bene essere animalisti. Io personalmente ho due gatti e un cane quindi da questo punto di vista mi ritengo tranquillamente sereno però è altrettanto vero che assolutamente la priorità è al genere umano. e non sottovalutiamo anche le ricadute che possono esserci dal punto di vista economico per il turismo. E quindi io credo che debba essere assolutamente considerato a questo aspetto. È un progetto che va blindato, cinturato nei numeri. Assolutamente sì e bisogna fermarlo e bisogna tenere lo sotto controllo. Grazie. Il nostro tempo è scaduto. Ringraziamo il consigliere provinciale del gruppo misto Massimo Fasanelli per essere stato con noi e aver risposto alle nostre domande. Grazie. Grazie a voi. E ci rivediamo con un altro ospite. Grazie a tutti.